A questa festa per questo meraviglioso strumento, un P664 della Steinway & Sons del 1915, che venne portato a Sansepolcro nel 1936 dalla famiglia Collacchioni, dopo che forse Giacomo Puccini in Germania potrebbe averlo suonato. Non lo sappiamo, è in corso un lavoro di ricerca molto assiduo e in profondità per accertare questo che sarebbe un fatto storico straordinario per la città di Sansepolcro. Ma non è soltanto questo. Giacomo Puccini venne spesso in Valtiberina, amico della famiglia Collacchioni, venne a caccia, venne a casa dei suoi amici, girò per il territorio, conobbe Sansepolcro, ebbe ispirazione da Sansepolcro e dalla Valtiberina per il suo lavoro di artista e forse suonò altrove questo pianoforte che ha comunque una storia illustrissima perché ha fatto il giro delle grandi sale da concetto d'Europa e soprattutto della Germania nella prima metà del 1900, prima del disastro della Seconda Guerra Mondiale. Questa serata è composta dallo sforzo collettivo di tante forze diverse che adesso io vi riassumerò brevemente ma dovelosamente perché non è facile, è abbastanza raro che tante realtà associative e non, economiche e non, amministrative e non, o forze semplici dei cittadini di Sansepolcro decidano di mettersi insieme per restituire alla loro città un capolavoro della tecnica musicale come questo che sentirete suonare stasera e un pezzo di storia importantissimo della cultura italiana e internazionale. Pensate che uno dei più grandi pianisti della storia, due dei più grandi pianisti della storia, Arturo Benedetti Michelangeli e il russo Sviatoslova Richter suonarono questo pianoforte, un pianoforte che è stato suonato da miriadi di giovani musicisti, di studenti, di grandi concertisti, di artisti che hanno avuto la possibilità di venire nella nostra bella città. È un pezzo di storia nostra, è una parte della nostra identità, è un segno della civiltà di questo territorio, di questo posto e di questa città. Questo è molto importante da ricordare perché grazie a, e qui dovete ascoltare con attenzione, ai club service di Sansepolcro e in particolare al Rotary Piero della Francesca, al Soroptimist, all'Inner Will, alla Fidapa, al Lions, agli amici della musica Borgo Sansepolcro, al comune di Sansepolcro naturalmente che ha sostenuto in tutte le sue fasi questo complesso percorso, allo studio Delta alla quale si deve la grafica e la comunicazione di questa serata e poi agli sponsor, alla Banca Cassa dell'Espagna di Firenze, alla Trato Scavi, all'Associazione Comercianti Centro Storico, Centro Commerciale Naturale, ad Aboca, alla dottoressa Amara Innocenti, al dottor Adolfo Pellegrini, con il sostegno fattivo della Banca di Anghiari Estia Credito Cooperativo, con l'aperizia artistica di Anna Maria Veccia, la pittrice che ha realizzato la copertina del programma di sala. A proposito, per chi vuole, per gli appassionati, al tavolo c'è la possibilità di acquistare una cartolina numerata, firmata dall'artista, che riproduce questa immagine con il timbro di questa serata. Quindi, per chi vuole avere un ricordo di questa serata, anche artistico dal punto di vista visivo, c'è questa possibilità, al tavolo, laggiù, di fondo alla platea. Bene, queste persone, questi enti, queste aziende, questi club, questi cittadini, hanno realizzato un'operazione che senza il loro contributo fortissimo non sarebbe assolutamente stata possibile. Un'operazione che ha portato stamani alla realizzazione di un importante convegno con molti inediti, è un filmato eccezionale che, se ripariamo, poi cercheremo anche di far recapitare alla televisione locale, e con esperti, con la fondazione Puccini di Lucca, che è venuta stamani a Sansepolcro, con una mostra che è esposta a Palazzo Praetorio ancora per qualche giorno, e che propone una serie di cimelli interessantissimi sul rapporto fra Puccini e la Valtiberina, e poi con l'entusiasmo di alcune persone, Maurizio Checaglini, Andrea Sari, Alessandro Goretti e tanti altri, impossibile fare i nomi di tutti, ma questi in particolare sono particolarmente legati a questa operazione, che hanno seguito con entusiasmo, con la necessaria fatica, perché è un lavoro, vero e proprio, di volontariato, ma sempre il lavoro è, proporre questo percorso, questa serata stessa, questo restauro, che è stato importantissimo, perché Stefano Bonecchi, che è qua in sala, il restauratore, ci ha detto prima che cominciasse la serata, il valore di questo importantissimo strumento, e l'accuratezza del lavoro di restauro e di ripristino che è stata necessaria. Bene, tutto questo concorre insieme a realizzare un ritorno, il ritorno di questo pianoforte, del quale adesso prego di parlare nei saluti l'assessore alla cultura del Comune di San Sepulcro, Gabriele Margoncini. Prego. Buonasera a tutti, per me è un onore essere qui a rappresentare l'amministrazione comunale questa sera, perché il progetto che abbiamo condotto insieme ai Club Service ci ha veramente regalato dei momenti unici, nei momenti di grande coinvolgimento, emotivo anche, e dei momenti che poi finalmente ci hanno fatto vivere questa serata e questa intera giornata, come diceva prima Michele, con grande entusiasmo. Il nostro pianoforte Stanway, che appartiene a questa comunità, è tornato, ed è tornato dopo un restauro che lo ha considerevolmente migliorato, soprattutto nelle componenti tecniche. Quindi noi a San Sepulcro oggi riscopriamo, dico riscopriamo perché sapevamo di averci questo oggetto, questo strumento, che è ovviamente la manifestazione di un grande valore artistico, storico, culturale, ma adesso lo guardiamo con occhi differenti, perché abbiamo capito che attorno a questo pianoforte si sono sviluppate delle storie, tra le quali ce n'è una in particolare, cioè quella che vede Giacomo Puccini gravitare attorno alla Valtiberina, vede questo compositore di fama internazionale venire spesso nel nostro territorio, grazie al legame che aveva con la famiglia Collacchioni, e che quindi queste frequentazioni lo spingevano a Castelnuovo, a San Sepulcro. E mi piace pensare che questo territorio, questo lembo, a volte marginale, ma questo anche crocevia in mezzo all'Italia, che è il territorio che viviamo, sia stato per lui anche fonte di ispirazione. E quindi abbiamo scoperto questo valore, un valore se vogliamo anche affettivo, un valore di amore per l'arte, la cultura, perché questo pianoforte è nostro, perché poi ce l'hanno donato e una parte di cittadini oggi ha deciso di donare alla città un pianoforte migliorato. Quindi dicevo tutta una conoscenza, anche storica, e l'auspicio che io ho è quello che si possa finalmente recuperare questa storia, che è la storia della nostra città, che va dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento. Una storia che spesso rimane un po' in ombra e che invece può essere veramente foriera di tanti stimoli. Perciò andiamo avanti in questa direzione, il lavoro non è finito, perché con questa interessante partnership che è nata tra club service, associazioni, cittadini appassionati e amministrazione comunale, dobbiamo guardare anche oltre, cioè cercare di intervenire laddove questo pianoforte risiederà, cioè nell'auditorio, cerchiamo di trovare quelle fonti di finanziamento, quel format giusto per intervenire e migliorare l'acustica, mettere in piena sicurezza questo strumento, renderlo fruibile e valorizzarlo al massimo. Concludo dicendo che tutta questa attenzione sarebbe davvero bello se riuscisse anche a riavvicinare le persone a un genere musicale che purtroppo oggi rimane spesso ai margini dell'offerta musicale contemporanea, cioè sto parlando dell'opera lirica che forse è il genere che ci ha identificato di più come italiani anche all'estero. Puccini è un compositore che respira un'area internazionale, rispetto anche ad altri compositori che abbiamo avuto, Giacomo Puccini è riuscito davvero a recepire stimoli che arrivavano anche dall'Europa, da altri continenti e quindi a creare una proposta musicale estremamente eclettica, nuova, dinamica e quindi avere la possibilità di riallacciare questi contatti con diverse parti del mondo e riportare appunto, come dicevo, le persone vicine al genere dell'opera lirica, del melodramma, può sicuramente essere un modo per recuperare le nostre tradizioni musicali più intime. Quindi grazie a tutti, è una bella serata, è una serata di festa e sono convinto che ci divertiremo oltre appunto a respirare tutti questo sano stato e sensazione di entusiasmo nell'aver recuperato questo gioiello. Grazie a tutti. Grazie all'assessore e alla cultura Gabriele Marconcini. Come si svolge questa serata? È divisa sostanzialmente in due parti. Nella prima parte ascolteremo il suono di questo magico strumento grazie a un eccezionale pianista che è Andrea Cantù, che suonerà alcuni brani che fra poco vi dirò. Nella seconda parte si alternerà alla tastiera il pianista Niccolò Naldoianni per accompagnare quattro cantanti lirici molto conosciuti. Chiara Chiali Mezzo Soprano, Stella Peruzzi Soprano, Andrea Sari Baritono, David Soggiu Tenore. Nella seconda parte naturalmente i romanze, le alie da camera, i brani d'opera saranno tutti firmati da Giacomo Puccini. E a chiusura della serata avremo un intervento della corale Domenico Stella, del coro Città di Piero e del coro lirico Alto Tiberino diretti dal maestro Paolo Fiorucci. Ma al momento vedremo. Intanto cominciamo dal principio, come bisogna sempre fare in queste occasioni. E ricordando che i cantanti che partecipano a questa serata dedicano il concerto alla memoria del maestro Alessandro Nisio, illustre direttore d'orchestra e musicologo, morto a soli 55 anni per un infarto una settimana fa, e un loro grande collega e amico, a quale appunto hanno deciso di intitolare, per quanto riguarda loro, questa serata. Dopodiché vi prego un applauso al maestro Soprano. Dopodiché abbiamo una giovane stella del pianismo italiano e internazionale. E' Andrea Cantù, a 25 anni, e il grandissimo pianista Aldo Ciccolini ebbe a scrivere di lui. La sua sensibilità musicale mi commuove. Le interpretazioni di Andrea Cantù affiancano il virtuosismo tecnico trascendentale a una carica emotiva e a una capacità di introspezione, a detta di molti esperti, sorprendente. Ha iniziato a studiare il pianoforte interna età, si è diplomato con l'Oda al conservatorio Giuseppe Verdi di Como, sotto la guida del maestro Patuzzi, si è perfezionato a Parigi, all'Ecole Normale di Musica al Frecote, con il maestro Blacher e, privatamente, è stato uno degli ultimissimi allievi personali, proprio del grandissimo maestro Aldo Ciccolini. Andrea Cantù ha approfondito il repertorio tanto barocco col maestro Emilia Fadini, ha vinto il primo premio assoluto al concorso internazionale di Caraglio, è stato premiato innumerevoli volte in tantissimi diversi concorsi importanti, compreso il concorso internazionale pianistico Maria Giubilei di San Sepolcro, promosso dalla FIDAPA e dall'Associazione Vivere a Borgo San Sepolcro, in questo luogo assieme agli amici della musica, in anni passati, con una borsa di studio per la masterclass del presidente della Giulia di allora, il celebre pianista Sergio Pertiferoli, al Mozarteum di Salisburgo. Poi ha vinto numerosissime borse di studio, premi che non sto a delincarli perché comunque stanno a dimostrare il valore di questo artista, si è esibito in tantissimi luoghi, fra i quali Salisburgo, appunto, il Mozarteum, la Parigi, nella Salcorto, a Bruxelles, al Museo degli Strumenti Musicali e nella sede della MG Consela, la Royal Albert Hall di Londra, al Milton Court, è sempre a Londra e è sempre a Londra ancora lo Sheriff Center, a Como, al Festival Chopin, al Festival List, al Teatro Carducci e a Varenna, a Villa Monastero, insomma in tantissimi luoghi. Da ricordare che attualmente è entrato tramite concorso a far parte di una delle istituzioni musicali più prestigiosi del mondo, la Guildhall School of Music and Drama di Londra, dove studia per l'Artist Master sotto la guida del capo del dipartimento di pianoforte Roma Novara e di Caroline Palmer. È stato ideatore e direttore artistico del Festival Musicale Internazionale Rotaractiano, I Musicisti del Mondo per il Centro Italia, un progetto di solidarietà che ha raccolto svariate migliaia di euro, però terremotati, e ha coinvolto anche 24 giovani ma già affermati artisti da tutto il mondo. Io vi dico brevemente i brani che il maestro Cantu adesso ci proporrà e poi lo lasciamo suonare senza soluzione di continuità. Si comincerà con la Polonaise Fantasia Opera 61 di Friga di Chopin, che appartiene all'ultimo periodo della creatività chopiniana e costituisce uno degli esiti più ambiziosi di un pianismo dalla forma aperta, proiettata verso esperienze artistiche del futuro. Il grande genio di Chopin qui si esprime ai massimi livelli. Seguirà il grande passaggio fra l'800 e il 900 con il nome di Claude Debussy, un musicista francese che visse molto a lungo in Italia, con Images Publier, un'opera giovanile poco nota, pubblicata solo dopo la morte di Debussy. Un'interessante testimonianza della ricerca espressiva che il compositore porterà a termine, a compimento con le opere successive della maturità. Andando avanti, avremo una sonata opera 120 D664 di Franz Schubert, inciso non era D664 il pianoforte, il pianoforte ha un'altra sigla che adesso vi dico per esattezza di informazione, e che è la D274, che è la sigla di quella serie di pochissimi pianoforte che nel 1915 la Steinway-Sensons realizzò. Questa sonata di Schubert che dicevo, l'opera 120 pubblicata postuma, è breve, 133 battute nel primo tempo, invece delle circa 200 che per Schubert costituisano la misura ordinaria. È una sonata snella, intima, tenera, che realizza l'immagine della più tradizionale vienna di questo grandissimo e sfortunato autore. E poi Puccini. Puccini con il piccolo valser, il pianoforte B maggiore, composto all'inizio di settembre del 1894, destinato alla cerimonia di consegna della bandiera di combattimento per la nave da guerra Re Umberto, che ebbe luogo a Sestri Polenta quello stesso mese. Puccini ebbe l'idea, un giorno che era a caccia, nel suo amato lago di Massaciucoli, nella barca, dolcemente cullata dalle onde. Nel frattempo stava lavorando alla Bohem e intenzionato ad adattare il motivo di questo piccolo valser al valser di Mosetta nel secondo quadro di Bohem, inviò come traccia al librettista Giuseppe Giacorsa un buffo verso, che fa così, cocoricò, cocoricò, bistecca. E il ritmo, sono le battute e il tempo che voleva dare, le cinque quarte, credo, io non sono un musicologo, però posso sbagliare, non la do come la so, non la prendete per il penore colato, dal cui il ritmo nacque appunto l'incipit di Guandomenvo, Guandomenvo, Soletta. Quindi sentite, il ritmo già nel verso è lo stesso. In chiusura, Puccini ancora, pezzo del pianoforte, un adagio del 1832, che Puccini scrisse per le famiglie delle vittime di guerra in una pubblicazione speciale dell'Unione tipografica di Torino. Una piccola meraviglia. Signore e signori, il maestro Andrea Cantù. Il maestro Cantù dedica il suo concerto alla nostra amica Paola Baschetti Galardi. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. contro. a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.